Sono giorni che non penso ad altro, che non ho più spazio per me, sono tua, sono tua, sono appena nata Questo è il momento in cui effettivamente le canzoni prendono vita, i testi assumono un significato tutto speciale perché lo vediamo negli occhi delle persone Dopo lunghi mesi d'attesa torna finalmente la musica dal vivo a riaccendersi l'Anfiteatro Romano di Arezzo con la prima tappa del tour della rappresentante di lista che è aperto l'Arezzo Music Fest 2021 all'interno della cornice di anfiteatro Sotto le Stelle È il luogo dove ha sede una parte della nostra crew, ovvero la nostra etichetta discografica che è la Woodworm ma anche perché io sono toscana quindi sono molto felice di aver fatto la prima data di questo tour qua Un concerto sold out per il duo dopo l'avventura al festival di Sanremo con Amare, brano, disco di platino che li ha presentati al grande pubblico La prima volta che li suonavamo dal vivo, tutti quanti, tutto questo disco nuovo e poi era veramente dal 2019, da settembre, che non facevamo un concerto e quindi l'adrenalina era tantissima e siamo troppo felici Il concerto della rappresentante di lista è andato in scena di fronte ad un anfiteatro pieno ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid